La convivenza fra cantieri, soprattutto di ristrutturazione scolastica, e le elezioni amministrative ed europee del prossimo 8 e 9 giugno porteranno a modificare la sede elettorale per quattro seggi in riferimento a 8.428 elettori pesaresi. E' quanto illustrato dall'assessora comunale Francesca Frenquellucci in risposta all'interrogazione del consigliere Emanuele Gambini avvenuta nel Consiglio Comunale dell'8 aprile. Nel dettaglio i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce porteranno gli elettori di tre sezioni a spostarsi nei locali del quartiere Vismara in via Basento. Una sezione dei locali comunali di Pozzo Alto sarà invece sostituita dagli adiacenti locali parrocchiali della stessa Pozzo Alto. Le tre sezioni di via Petrarca 18 a Muraglia, ora sede dell'università, si sposteranno a pochi metri nel centro socioculturale Salice-Gualdoni. I seggi di cinque sezioni della scuola Mascarucci, ora alienata dal comune per nuova destinazione, saranno invece ospitati in via Le Trieste 236 a Pesaro Studi, ora sede temporanea della primaria Mascarucci. Quindi è stato fatto un lavoro per cercare di, innanzitutto, aspettando questo decreto ministeriale che ancora non è uscito, di poter informare i cittadini, iniziare a mettere anche la cartellonistica già da oggi nelle scuole e poi si è anche pensato, si sta lavorando proprio per il via Soria, per la scuola Mascarucci via Agostini che verrà spostata a Pesaro Studi, di mettere una navetta a disposizione della cittadinanza, anche perché parliamo di cinque seggi ed è l'unico luogo dove c'è una distanza di circa un chilometro.